benvenuti in un nuovo video di wine food rack oggi andremo a degustare un pinot grigio prodotto nella zona del collio ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test il pino grigio è un vitigno internazionale originario della borgogna ma che viene coltivato anche in molte zone d'italia prevalentemente in trentino veneto e friuli questo vitigno deriva da un pino nero e deve il suo nome al termine francese pin cioè pino proprio per la forma caratteristica del grappolo che ricorda appunto una pigna il mosto che si ottiene può essere vinificato sia con macerazione sia in bianco cioè senza macerazione delle bucce nel primo caso si avrà un vino dal caratteristico colore ramato nel secondo caso che è quello del vino che abbiamo scelto si otterrà un vino bianco il vino di oggi è un pino grigio doc 2017 di vignaioli da san floriano l'etichetta è molto essenziale ed elegante sobria e ben si sposa con la bottiglia dal design moderno andando ad aprire la bottiglia notiamo un tappo di tipo tecnico che aderisce bene ma che risulta forse un po spugnosa nella parte inferiore tuttavia il prodotto è ben conservato all'interno e adesso passiamo alla degustazione vera e propria di questo vino alla vista questo pinot grigio si presenta con un colore giallo paglierino molto tenue con riflessi dorati si presenta inoltre molto limpido e senza sospensioni ruotando il bicchiere si nota una densità medio alta al naso dopo una leggera ossigenazione il vino si apre sprigionando aromi prevalentemente fruttati di frutta bianca matura e soprattutto di pera subito dopo si fa notare anche una lieve mineralità tipica dei vini del nord italia tutti gli aromi sono accompagnati da una sensazione alcolica dovuta alla gradazione del 13 per cento in boccheri sul taschietto la freschezza si fa subito sentire appalato e alla degutizione ha una buona persistenza e un vino da degustare sicuramente giovane e non è adatto all'invecchiamento in bottiglia vista le caratteristiche di questo vino è ottimo come vino d'aperitivo ma anche per piatti di pesce mi raccomando seguiteci sul nostro canale youtube e sulla nostra pagina facebook alla prossima recensione ciao 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 ciao